Per l'utile verso il Signore, accompagno la solenne celebrazione di riapertura del nuovo di grandola, risieduta dal Vescovo Francesco, che ringrazio per la sua disponibilità anche in questa bellissima occasione e soprattutto per il suo impegno costante per la ricostruzione dopo il terribile terremoto del maggio 2012. Saluto e ringrazio tutti i presenti, a partire dai sacerdoti, in particolare il parroco Don Fabio e il viceparroci Don Michele Don Mauro. Saluto tutti i presenti alla celebrazione e coloro che la seguono attraverso il collegamento televisivo. Ringrazio coloro che a qualsiasi titolo hanno contribuito, secondo le loro competenze, alla restituzione dell'uomo alla parrocchia, alla città e alla diocese. Dopo gli anni della passione è arrivata finalmente l'alba della risurrezione. la chiesa materiale, restituita al popolo di Dio e nel suo splendore, sia il segno e la custodia della chiesa, fatta di persone e di molti, il corpo di Cristo simboleggiato dall'edificio di pietra. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.